La donna potrebbe essere in difficile stato psicofisico o subire le conseguenze del recente parto senza assistenza Orrenda scoperta sulla spiaggia di Balbriggan, meglio conosciuta come Belsbeach, a Dublino. Il corpo di una neonata appena partorita è stato rinvenuto senza vita sulla sabbia, e non vi è traccia alcuna della madre Le autorità hanno diramato un appello drammatico. La donna potrebbe essere in pericolo per via del parto, o delle conseguenze di esso Partorita e lasciata lì.È stata partorita lì, sulla sabbia di una spiaggia fredda. Probabilmente è nata morta e la madre, anziché farsi curare, per motivi che ovviamente non si possono conoscere, l'ha lasciata lì per scomparire nel nulla Ora, le autorità sono preoccupate per la mamma di Belle, così è stata chiamata la piccola, che potrebbe aver bisogno di cure per via del parto recentemente avvenuto o per qualsiasi tipo di infezione, che potrebbe essersi sviluppata nel frattempo Il luogo in cui la donna ha abbandonato il piccolo corpo è piuttosto strategico. Si tratta di una spiaggia lontana dal centro, in cui passano pochissime persone ma al contempo lì vicino ci sarebbe una ferrovia, e dunque la possibilità di dileguarsi abbastanza facilmente Ore di angoscia per la madre.Gli inquirenti hanno garantito la massima riservatezza e l'assenza di conseguenze per la donna, che in questo momento oltre ad essere ferita o malata potrebbe anche essere impaurita Roma Maioli, dottoressa del National Maternity Hospital, ha dichiarato. Le parleremo in confidenza assoluta La nostra primaria volontà è prenderci cura di lei, quindi non deve preoccuparsi o essere impaurita, e noi ci confronteremo con lei in assoluta riservatezza Anche se semplicemente volesse solo parlare con lui. La nostra prima preoccupazione è la sua salute fisica e mentale